Buona partenza e ritorno in grande stile per la mostra Mercato Immaginarti di Pescarzo di Capodiponte, la prepista e la kermesse delle tre mostre d'agosto in Valle Camonica. Un modesto numero di partecipanti nella prima serata di questo sabato ha animato le vie del caratteristico borgo, ad essere apprezzata come ogni anno la struttura medievale, preziosa testimonianza dell'identità e delle tradizioni dell'antico popolo dei Camoni. È una bella sensazione di libertà più che altro. Noi di solito andiamo a visitare quella di Bienno, vogliamo vedere questa com'è e poi vedremo un po' le differenze. Dopo due anni di stop è comunque bello rivivere il paese in questa iniziativa, anche il volontariato della gente che si dà molto da fare. È caratteristica molto il suo paese, le abitazioni, il centro storico, molte aspettative di avere parecchia gente. È molto bello di tornare, tra l'altro io sono un cliente fisso perché ogni anno vengo giù a vedere. Bello, hanno veramente allestito un bel paese. Ci sono vari posti che io non avevo mai visto gli altri anni e vedo che c'è anche molta gente quest'anno. Dopo due anni vedendo tanta gente così a venire alla mostra non me lo immaginavo neanche. Io sono un po' appassionato a vedere le cose fatte a mano perché hanno un valore diverso che fatte a macchina. Venivamo tanti anni fa perché la mamma di mio marito viveva qui e quindi ci fa piacere tornare. 31 gli espositori presenti tra artigiani ed obbisti che hanno trasformato i locali del borgo in peculiari botteghe artigianali. È la prima volta che partecipo alla mostra del mercato di Pescarzo. L'ho scelta perché è per il caratteristico borgo e per far ripartire un po' queste manifestazioni di paese. È la prima volta che vengo su e mi sembra comunque che ci sia già parecchia gente. Speriamo che il tempo ci aiuti anche. Sono tanti anni che vengo sempre qui, che questa è casa mia, era casa mia. Vengo solo da quella mostra qui però perché vengo per il paese. Ricominciare anche con questi mercatini che ci dà la possibilità comunque di socializzare ancora come è sempre stato è una cosa molto interessante e bella. Credo che sia una cosa molto positiva. Per fortuna siamo riusciti a riprendere quest'anno quindi sono contenta di partecipare come tutti gli anni. La gente c'è, partecipa, guarda e quindi sono soddisfatta.